Scusate ragazzi, io mi son chiesto una cosa, io vi ho regalato il metodo della penultima del mese che sta strapagando da quando è in gioco 8 colpi ha pagato 4 volte, 4, di cui 2 ambetti a nazionale e 2 ambetti a Torino-Venezia, ruota di calcolo, cioè, va bene. Poi vi ho regalato il metodo sesta del mese, a colpo, anzi scusa, a un quarto di colpo, ha pagato l'ambetta nazionale. Ma se io vi regalo queste cose, mi spiegate perché non le avete giocati? Cioè, avete visto la validità, l'efficacia dei due metodi? Quindi, rispondetemi qui sotto, ma vi rispondo io, sapete perché? Perché voi giocate i numeri di tizio, i numeri di caio, i numeri di sempronio e i numeri del truffatore. Quindi voi giocate tutti questi numeri di anche quelli che siete abbonati e non vincete un cazzo e con me che gratuitamente vi regalo le cose, non le giocate ma non perché non vi fidate di me, perché vi fidate alla grande. E gli iscritti parlano per qualche previsionista che gli rode il culo. Brucia cul, te lo consiglio sempre, eh, previsionista. A te, previsionista, brucia cul, te lo consiglio sempre perché ti rode il culo, ti brucia. Che Mimmo Nazionale fa vincere gratis. E tu, che fai abbonamenti, e parlo con pochi di voi perché ungi da me, non con tutti, ti brucia il culo perché tu, che con abbonamenti non fai vincere una minchia, ti rode il culo. Io lo so che ti brucia il culo, ma minchia se lo so che ti brucia il culo. E allora dico a te, previsionista, forse è meglio che o ti ritiri o chi ti scusa la gente che non fai vincere un cazzo. Perché non far vincere un cazzo, quando uno paga un abbonamento, o paga una chiamata telefonica, o paga chissà che cosa paga, con me non si paga una minchia, io dico, e chi si sente colpito poi alla fine sono sempre le stesse persone, uno, due, chissà come mai. Perché gli altri hanno la coscienza pulita e non mi chiamano, non mi contattano per dire, ma Mimmo, no, perché lo sanno, ma tu, voi due, voi tre, un pochino, non vi sentite colpiti e rompete il cazzo a me che mi chiamate in privato e mi mandate i messaggi, ma mettetevi una mano sulla coscienza, io non sono contrario agli abbonamenti, no, perché ho tanti amici che fanno abbonamenti e sono veramente bravi, ma il problema è che la maggior parte delle persone, abbonamento qua, abbonamento là, non recuperano la minchia, vengono presi per il culo, Mimmo nazionale va per la sua strada, ogni tanto fa qualche collaborazione, ma Mimmo nazionale fa vincere però e non ci hanno rimesso i soldi e l'abbonamento, quindi con Mimmo nazionale anche se giocano l'ambetto è tutto di guadagnato, piuttosto che fare un abbonamento con qualcuno devi anche mettere l'ambetto e purtroppo non lo mettono e quindi ci perdono. Riflessione, questa è stata tutta una riflessione, comunque a parte la riflessione che ci sta, perché ci sta, io vi dico ragazzi, occhio ancora per l'ennesima volta alla penultima del mese, perché continuerà a pagare, magari no, magari sì, continuerà a dirvelo ma pagherà, anche perché quel 23 tra Torino e Venezia deve esplodere, se esce il 23 voi fate il botto, ambo e ambetto vi ricordo, e poi la quartina, recupero nazionale, e il nuovo metodo che vi ho regalato su Cagliari Torino alla sesta del mese, che a un quarto di colpo ha pagato l'ambetto secco a nazionale, continuate a giocarlo, quindi seguite una cosa e solo quella, ok? Un bacio a voi tutti che mi amate, che siete il 99,9% più o meno, e a quel 0,1% gli dico brucia cool, pomatina e ti passa. Un bacio.